Ciao a tutti, oggi parliamo di un grande artista, di uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, di Donatello. Iniziamo con una domanda, perché c'è un legame tra la scultura del David di Donatello e il cinema? Perché? Allora, perché intanto il David è un'icona che oggi conosciamo, conosciamo tutti grazie a quel premio cinematografico prestigioso che viene annualmente consegnato agli attori, quindi un premio intitolato un'opera di Donatello, uno scultore del 400. Perché c'è questo legame col cinema? Perché negli anni 50, per diciamo omaggiare gli attori, le eccellenze cinematografiche, si scelse proprio questa scultura del David, perché si voleva celebrare la rinascita culturale dal dopoguerra italiano. Quindi il giovane eroe di Donatello, che sconfigge il gigante Golia, si prestava per la sua immagine di eleganza, di perfezione, quindi divenne un po' il simbolo di quella creatività e di quella perfezione stilistica. Detto ciò, il David di Donatello è sicuramente un'opera enigmatica, ricca di interpretazioni e di significati, della quale parleremo. Ma qual è l'innovazione di Donatello? Sicuramente è quella resa psicologica del personaggio, un personaggio tratto dalla Bibbia, che attraverso poi quella pose elegante, quell'atteggiamento spavaldo, ci suggerisce un po' quella di un monello che ha appena compiuto una bravata, quindi un volto pensoso nascosto dalla falda del cappello con questa espressione tra appunto il soddisfatto e il malinconico. Donatello ebbe una lunga carriera, il suo vero nome fu Niccolò di Betto Bardi e iniziò come scultore orafo prima del Quattrocento ed è stato l'inventore dello schiacciato. Che cos'è questa tecnica? Molto semplicemente è una tecnica scultoria attraverso la quale si riesce a realizzare un rilievo bassissimo attraverso delle minime variazioni di spessore, che vuol dire che l'osservatore ha la percezione della profondità con questa diminuzione progressiva dello spessore delle superfici, quindi è una tecnica che tra l'altro Donatello utilizza per le sue opere, come il banchetto di Erode, che tra l'altro è una superficie piccolissima, pensate a una formella quadrata di 60 cm per 60, quindi Donatello riesce a darci la percezione della profondità applicando la prospettiva e attraverso quei piccoli passaggi poi chiaroscurali ci rende il movimento, il movimento vibrante dei suoi personaggi. Ecco, questi personaggi sembrano proprio bloccati, come al culmine del dramma e c'è poi in Donatello la grande resa narrativa, quindi in realtà Donatello usa la prospettiva che aveva sicuramente studiato grazie al suo amico Brunelleschi, ma vuole invitare lo spettatore a indagare quel racconto, quegli episodi che si svolgono in momenti differenti attraverso questi piani che diminuiscono gradualmente di spessore fino al piano di fondo dove poi si apre questa scenografia con archi a tutto sesto, quindi in realtà è la prospettiva a scandire il racconto e poi c'è questa inquietudine, un'inquietudine che trapela dallo spazio in lontananza fino poi a diventare più drammatico quei personaggi in primo piano. Ecco, un'altra cosa ancora da dire, che Donatello apre il primo rinascimento assieme a Brunelleschi e a Masaccio e nell'ambito della scultura fu veramente innovatore perché riuscì a modificare per sempre il modo di ritrarre i soggetti che diventano dei personaggi reali non soltanto nella resa anatomica ma soprattutto nella resa psicologica e quindi le sue sculture si liberano a poco a poco di quella nicchia tardogotica, qui si sta muovendo tutto, tutto appunto il quadro, e la dicevamo si libera da nicchia tardogotica e cominciano ad essere delle sculture a tutto tondo, cerco di tenere fermo il tablet delle sculture, quindi visibile da più punti di vista. Chiudo perché questa introduzione dovrà essere breve, Donatello ebbe un percorso artistico veramente segnato da grandi cambiamenti, da svolte e addirittura nelle sue opere arriverà poi a un linguaggio anticlassico, questo lo vedremo. Ecco, adesso chiudo questa breve presentazione e direi di aprire il PowerPoint. Donatello è un'opera classica che appunto è il primo nudo dell'era moderna, tutto tondo, a grandezza naturale, che ci riporta ai modelli ellenistici e prassitelici attraverso quella levigatura delle superfici, quella resa anatomica, però non c'è quella stabilità, quell'equilibrio del modello classico, quella posa ponderata, quindi c'era quel bilanciamento del peso del corpo. Addirittura qui c'è una posa che è sbilanciata, c'è una tensione che si avverte appunto attraverso le mani, c'è appunto questa tensione, questo scatto del capo e quindi si arriva a quel realismo, quella resa psicologica appunto del linguaggio donatelliano. Quindi questo fanciulla adolescente identificato poi come Davide o come Mercurio è consapevole dell'impresa compiuta. Questa è un'opera oggi conservata al Museo del Bargello di Firenze di cui parleremo. Abbiamo detto che Donatello iniziò la sua carriera, la sua lunga carriera come orafo e scultore presso la bottega del Ghiberti e poi c'è un aneddoto importante che ci raccontava Sari, sembra che all'inizio del Quattrocento Donatello scoppiò un crocifisso di legno che poi vuole mostrare con fierezza all'amico Brunelleschi chiedendogli appunto un parere. Ecco non si aspettava sicuramente la reazione del Brunelleschi che invece criticò il suo crocifisso e disse proprio che sembrava che Donatello avesse messo in croce un contadino invece di Gesù Cristo. Ecco questo è un aneddoto raccontato da Vasari che mette subito a fuoco quel lato umano del Cristo donatelliano. Vediamo anche in questa immagine questo volto che esprime il momento dell'agonia, gli occhi socchiusi, la bocca semiaperta. Quindi Donatello mette subito in luce la sofferenza e l'umanità del Cristo e invece Brunelleschi nel suo crocifisso realizza in realtà un Cristo che non mostra segni di stanchezza, un'espressione dove non c'è pathos, però c'è quella perfezione, quella corrispondenza delle misure e quindi diciamo c'è quella perfezione matematica anatomica, non c'è invece la resa umana del Cristo. Questa è un po' la differenza tra i due artisti. Adesso una cosa importante è che Donatello prima del Quattrocento entrò a far parte di un gruppo di scultori attivi poi nei cantieri di Firenze e tra questi uno dei più importanti fu proprio la chiesa di San Michele, una chiesa gotica che presenta quattordici nicchie tutte destinate a contenere le statue dei santi protettori, protettori delle arti fiorentine. Ecco Donatello fu proprio incaricato di scolpire un San Marco e un San Giorgio nel 1416. Ecco andiamo a vedere subito questa scultura che appunto rappresenta il santo cavaliere dalla postura fiera che guarda all'orizzonte con il suo scudo crociato. Ecco la cosa importante è qual è la novità dell'opera. È in quest'attimo fulmino dove San Giorgio ha visto la sua preda, ha visto il drago e quindi gira la testa con uno scatto laterale. Come vedete c'è una ponderazione, quindi questo senso del movimento, che però non è dato dalla posizione delle braccia e delle gambe, come accadeva nelle statue classiche. Ma c'è una posa ponderata che è psicologica, quindi il San Giorgio attraverso questo scatto, attraverso questa intensità dello sguardo ci dà la percezione della battaglia che sta per iniziare, che sta per affrontare, quindi fisico-atletico che riprende la sua tarea classica, ma dicevamo cambia la postura perché parte da un'impostazione fiera, sembra una figura quasi bloccata, ma poi se osserviamo attentamente, attentamente si osserve proprio, si avverte, scusate, quel senso di movimento, di quel gesto della testa che si volge di scatto e con quella intensità di sguardo. Ecco, adesso arriviamo al Davide. Il Davide è stato realizzato per il cortile di Palazzo Medici e il soggetto è stato identificato sia come David, soggetto della Bibbia con i piedi la testa di Golia, sia come Mercurio, Mercurio vittorioso su Argo. E qui noi abbiamo detto il primo nudo dell'età moderna, ma l'equilibrio e la stabilità della statuaria classica è superata, c'è questo realismo introspettivo. Questo giovane adolescente, femmineo, con questa posa veramente nuova, con questo leggero sbilanciamento e soprattutto un ragazzo adolescente con un paio di calzari alati che arrivano fino al ginocchio e quindi con una serie di elementi nuovi che si distaccano sicuramente dalla tradizione classica. C'è appunto questo cappello, questo petasso che appunto ha questa corona di alloro a indicare la vittoria. Poi ovviamente Donatello si distacca dal classicismo, dicevamo, proprio per questi elementi, quindi calzari, il petasso, elementi che poi si fondono con quella raffinatezza gotica, perché se voi guardate la delicatezza del trattamento dei capelli, ma anche la delicatezza delle mani, è veramente ci riporta appunto allo stile tardo gotico. Questo giovinetto trionfante sostiene il proprio corpo con la gamba destra tesa, mentre la sinistra è appoggiata in segno di vittoria sulla testa del gigante sconfitto, del gigante Golia. E quindi poi nella mano destra tiene la spada con cui è appena decapitato l'avversario e la sinistra si posa sul fianco, appunto nasconde il sasso. Quindi con quest'opero direi di concludere, poi cercheremo di andare avanti e quindi parleremo di masaccio nella prossima lezione.